Ciao sono Marco DJ, benvenuto sul canale. Hai cancellato una playlist su Spotify e la volevi riutilizzare per un evento, un'evenienza? Bene, in questo video ti farò vedere come ripristinare la playlist da Spotify dalla prima traccia all'ultima senza dover ricostruire l'intera playlist. Seguimi in questo video e ti farò vedere tutti i passaggi. Il primo passaggio è di accedere alla versione desktop di Spotify, digitando Spotify sul motore di ricerca Google, accedere al sito dalla versione desktop, quindi dal loro sito internet. Una volta entrati e avete fatto l'accesso tramite Facebook, tramite mail, andiamo in alto a destra su profilo, clicchiamo account, ci spostiamo sul menu di sinistra e scendiamo su ripristina playlist. Clicchiamo e andiamo a recuperare la playlist cancellata. Facciamo un esempio, recupero la playlist con più canzoni. Andiamo a cliccare ripristina e la playlist è stata ripristinata. Per poterlo vedere dobbiamo tornare sull'app di Spotify, andiamo a sinistra, andiamo sulle playliste, scendiamo e controlliamo dove l'ha posizionata. Se non la trovate in alto dovete scendere fino in fondo e trovate la playlist. La mia si chiama nuovi ascolti e ho all'interno tutte le canzoni che ho creato precedentemente per un evento ed ora possiamo riutilizzare la nostra playlist rinominando anche il titolo e rinserendo altre tracce senza dover rifare tutto il lavoro. Tutte le playlist che avete cancellato rimarranno salvate nel vostro account di Spotify nella versione desktop e potrete recuperarle in qualsiasi momento dato che rimarranno salvate sempre all'interno del vostro account. Grazie per avermi seguito, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like, un commento riguardo a questo tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Mako DJ